Come hai avuto l'amichevole? Ora già ci conosciamo, quindi questo torneo potrebbe avere gli svolti potrini e la X può uscire, l'anno scorso è uscito. In bocca all'uomo. Grazie. Prima cosa ci dobbiamo divertire, deve essere una cosa tranquilla, una cosa giusta e poi ovviamente giocare, perché le partite possono essere amichevole, ci vuole un po' di agonismo per farla diventare bella. Certo, certo. In bocca all'uomo. Trevi. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti